Benvenuti a Motore Salute Europa. Le biblioteche scientifiche sono in rete a livello europeo e ci aiutano a comprendere meglio quelli che sono i temi della ricerca e della salute. Ce ne parla la dottoressa Saba Motta della biblioteca scientifica dell'IRCS Carlo Besta di Milano, che ha anche un piccolo museo. Sentiamo di cosa si tratta. Che tipo di materiale monografico avete? Una sorta di museo? Sì, abbiamo un museo che riunisce praticamente tutta la strumentazione scientifica che è stata utilizzata nel passato in istituto, ma anche ovviamente documentazione monografica e documenti dell'archivio storico del Besta, oltre che l'archivio fotografico. Quindi abbiamo un patrimonio documentario testimoniato da documenti che segnano la storia delle neuroscienze, ma abbiamo anche ovviamente una biblioteca completamente digitalizzata per quanto riguarda la produzione e la letteratura scientifica. Che tipo di servizio offrite? Il servizio nasce principalmente per fornire supporto e il recupero dell'informazione scientifica, ma anche per gli operatori e per tutti i medici e ricercatori, ma nel corso di questi anni, con la crescita e la maggior coscienza da parte dei cittadini, la biblioteca si è dovuta attrezzare con una biblioteca con documenti adatti alla divulgazione scientifica per i pazienti, divulgativa quindi. Abbiamo un servizio come il punto informativo per pazienti e familiari che svolge proprio questa funzione di supporto informativo ai bisogni dei pazienti, cittadini e familiari. Organizzate anche degli incontri, dei convegni e in particolare anche ne avete organizzato uno di recente che aiuta i cittadini e l'Associazione Donne Europea anche a capire come consultare online le fonti corrette sulla salute. Quanto è importante che la biblioteca sia appunto un punto di riferimento per la conoscenza e l'informazione? È fondamentale perché questo è proprio la mission della biblioteca, quello proprio di fornire non solo l'informazione e l'accesso alla documentazione scientifica, all'informazione scientifica e anche quella divulgativa, ma fornirà anche gli strumenti e le capacità critiche per valutare la qualità dei siti o comunque la qualità dell'informazione.